Il quattordicesimo incontro dei ragazzi di servizio civile, incontro nazionale, dire incontro significa verifica, significa scambio di buone prassi, significa condivisione e un incontro non è mai banale, non è mai ripetitivo, significa entrare in relazione. E poi con questa tematica che è molto importante, consegnata da Papa Francesco per la giornata a Mondiale della Pace, la buona politica al servizio della pace, richiama il senso profondo di ciò che questi ragazzi stanno facendo, cioè il servizio, un servizio che non è qualsiasi, non è un servizio che nasce da un'idea così banale, ma nasce dal proposito profondo di voler costruire qualcosa, ad iniziare dalla propria persona, ad iniziare dalla progettazione del futuro o no, di ciò che si vuole essere già da adesso.